Come da previsioni, i nubifragi di forte intensità stanno interessando soprattutto il Terramano e il Pescarese. Qui vediamo la cupola del campanile della chiesa della Santissima Noziata a Monte Pagano, colpita da un fulmine provocando danni all'interno dello stesso edificio di culto. Piove addirotto a Pescara dove l'assessore Pignoli ha annunciato l'apertura del COC. Centro operativo comunale, situazione difficile in città per i rovesci consistenti, in azione vigili del fuoco, protezione civile, polizia municipale, auto bloccate sul ponte Capacchietti e liberate alcune persone, ci ha detto Pignoli, bloccate nell'ex Baiocchi. Il fiume Pescara è sorvegliato speciale, al momento la situazione è sotto controllo, ma le strade sono continuamente monitorate, come ci dicono l'assessore Pignoli e il vice sindaco Maria Rita Garota. La situazione si sta monitorando anche attraverso la protezione civile, sono le squadre già in giro per la città di Pescara, anche l'assessore Pignoli ha la protezione civile e sta monitorando la situazione in giro per la città. Viene segnalata una situazione particolare al momento nella zona di Via Terno, ma proprio per questo si sta cercando di intervenire al più presto, proprio per dare un maggiore sostegno a tutte le situazioni di bisogno che ci sono nella città. Insomma, le condizioni in meteo non lasciano ben sperare, almeno per le prossime ore? Sembra di no, però cerchiamo di monitorare al massimo la situazione. Al momento non ci sono problemi particolari per quanto riguarda le golene, ma terremo sotto controllo tutta la città per cercare anche di tenere in sicurezza le varie situazioni e per tranquillizzare i cittadini. Allagamenti anche all'interno dello stesso comune di Pescara, Palazzo di Città. I allagamenti si registrano nel Terramano, in particolare sulla costa, con l'intervento anche in questo caso dei vigili del fuoco tra Alba Adriatica e Roseto e non solo. La cupola di Montepagano di Roseto, colpita da un fulmine, è una delle più grandi della provincia di Terramo e tornando a Pescara, automobilisti bloccati nel sottopassaggio, il centro commerciale del Fino chiuso perché invaso dall'acqua. Nel centro commerciale di Via Nazionale Adriatica Nord sono in azione alcune squadre dei vigili del fuoco, tante le richieste di intervento in attesa di essere evase. per una situazione che è in continua evoluzione, piove anche nell'Aquilano e nel Chietino.